Eroghiamo quello che ci è stato trasferito dalla Regione Abruzzo. Abbiamo accelerato il lavoro, le somme sono state trasferite intorno alla metà di ottobre e lavorando con gli uffici in una situazione di difficoltà siamo riusciti ad erogare prima della fine di questo mese queste due mensilità, giugno e luglio. Non è questo l'obiettivo che come istituzioni dobbiamo porci, ecco perché con la protezione civile lavoreremo affinché il flusso di risorse dalla Regione al Comune possa avvenire intanto tempestivamente, di recuperare gli arretrati e di definire una situazione che è particolarmente complessa. Dalla quantificazione che è stata fatta dagli uffici in queste settimane, a seguito anche delle modifiche dell'ordinanza e del cambio, anche della perdita dei requisiti, in tanti casi circa 757-760 certi. Abbiamo rispetto al totale dell'ultima erogazione circa un centinaio di nuclei che sono a rischio decadenza, comunque non hanno più requisiti e quindi sono soggette ad una situazione di decadenza da scasse. È chiaro che anche questo ha influito sulle verifiche da parte degli uffici. Prima di procedere a una dichiarazione di decadenza si fa una valutazione seria, attenta a dei requisiti perché non è una valutazione che si può fare a cuor leggero. Abbiamo poi una quota di famiglie rispetto alle quali stiamo attendendo dall'Ater la comunicazione dell'ingresso nelle nuove case perché è legato alla permanenza o meno del CAS e alla tempistica del CAS e poi una serie di valutazioni che stiamo effettuando. Il lavoro più rilevante è stato definito, quindi abbiamo dato mandato al pagamento e definito la procedura amministrativa da parte del Comune. Ricordiamo anche che c'è la scadenza prossima del 30 novembre, quindi per quanto riguarda i progetti relativi agli mobili colpiti da dichiarazione di inagibilità per danni lievi, è necessario presentare il progetto entro il 30 novembre, altrimenti si perde il contributo di autonoma sistemazione. È una situazione complessa con le normative che cambiano, abbiamo i controlli che giustamente sono puntuali perché ovviamente la legittimità è assolutamente la prima cosa, abbiamo visto anche i controlli che sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza, quindi è necessario assolutamente che si verifichino puntualmente tutte le posizioni. Però l'esigenza sociale, la giusta pressione, le giuste rivendicazioni di queste famiglie nei confronti delle quali vanno ovviamente le scuse di tutte le istituzioni, non lo dico solo come il Comune di Teramo, perché questo è un sistema che deve funzionare anche in Regione Abruzzo, per tutti i comuni ovviamente ci portano a dover migliorare nei prossimi mesi e accelerare i tempi rispetto a tutto quello che è successo in questi quattro anni.